Io sono Demetrio Maio, sono di origine calabrese, ho sentito della clinica del dottor Palmas, però l'ho lasciato in un cassetto sempre dopo, dopo, c'è tempo, c'è tempo. Adesso, quasi 60 anni, è arrivata l'ora, ho deciso che è arrivata l'ora di fare il lavoro. A livello estetico stavo bene, non è che avevo dei problemi, però incominciava a deformarsi. L'impianto che avevo da 30 anni cominciava ad essere un po' fusurato, cominciava a muoversi, allora ho deciso di iniziare questo percorso. Alla fine ho preferito il dottor Palmas, che mi ha dato più sicurezza. Sicuramente avere un bel sorriso fa tanto. Allora, io sono uno che rido poco, però quando si trova in compagnia con le belle donne, le belle ragazze, un bel sorriso è già... però a 60 anni non è che... No, non è che uno è come quando c'è a 20, 30 anni, sai... Però già... il sorriso è una bella cosa, sicuramente. È stata una bella esperienza, mi sono trovato bene. Il percorso è iniziato bene, ho avuto 12 impianti, 6 e 6. L'operazione è andata bene, dopo tre giorni già incominciava il dolore ad andare a sparire. Non ho avuto ematome a livello fisico, però è andato tutto bene. Professionalmente è sicuramente il primo posto. Poi a livello umano, come persona, è il top, dai. E io darò un buon consiglio per la clinica, che è sicuramente all'avanguardia. Sarà un ricordo bellissimo, anche se 15 giorni un po' lunghi, però sono dei ricordi che rimarranno... Mi sono trovato bene, prima di tutto mi sono trovato bene anche in città. La qualità della vita spero che continui come già c'era, però adesso con un sorriso in più penso che è meglio, sì.